Buon pomeriggio a tutti, oggi abbiamo il piacere e l'occasione di assistere all'ultimo degli incontri di approfondimento sui monumenti del sito seriale Longobardi in Italia e i luoghi del potere che abbiamo organizzato a Brescia in concomitanza con la mostra Toccar con Mani Longobardi che si trova allestita all'interno del complesso monastico di Santa Giulia fino al 29 maggio. Si tratta di una mostra di modellini architettonici che permettono di esplorare tattilmente ma anche visivamente in un colpo d'occhio unico questi sette monumenti di eccezionale valore universale che l'UNESCO ha ritenuto di iscrivere nella sua prestigiosa lista del patrimonio mondiale nel 2011. L'ultimo sito al quale dedichiamo l'approfondimento è la Basilica di Santa Sofia di Benevento, uno dei luoghi straordinari legato a Brescia dalla parentela con la famiglia di Desiderio proprio perché una delle figlie di Re Desiderio andò sposa da Rechi II e regnò felicemente su Benevento con il marito. Lo specialista che ci accompagnerà in questo luogo straordinario è il dottor Simone Foresta che attualmente ricopre il ruolo di funzionario della soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio delle province di Caserta e Benevento ma ha alle sue spalle un curriculum molto nutrito di studi e ricerche. In particolare il dottor Foresta si è occupato di classicità nei diversi aspetti, è dottorato in archeologia classica presso l'Università degli studi di Napoli ed è anche perfezionato, ha potuto perfezionarsi alla Scuola archeologica italiana di Atene che è una delle scuole di eccellenza del nostro paese nell'ambito dell'archeologia. È docente presso diverse università e ora declina questa sua competenza su Benevento e sul territorio beneventano. Proprio oggi ci parlerà appunto oltre che del complesso monumentale di Santa Sofia anche dei risultati recenti di attività di ricerca condotte dalla soprintendenza in quel territorio e che hanno contribuito ad aggiungere dei tasselli di conoscenza alla panorama delle presenze longobarde nel territorio straordinario della Campania. Ringrazio quindi il dottor Foresta per aver accolto il nostro invito a portarci a Benevento, a illustrarci questo luogo straordinario e invito quanti di voi non l'avessero ancora fatto e ne avessero l'opportunità a venire a Brescia per vedere e toccare la mostra Toccarcomano e Longobarde nonché a visitare il complesso monumentale di San Salvatore e Santa Giulia. La mostra ricordo è aperta fino al 29 di maggio del 22. Grazie ancora anche a voi per averci seguito in questa maratona attraverso i luoghi Longobardi del sito UNESCO Italia Longobardorum e auguro a tutti un buon ascolto e una buona visione. Grazie. Grazie mille per questa presentazione e per l'invito in questo momento di approfondimento che è l'ultimo di questa interessantissima serie che ho avuto anche modo di seguire virtualmente ma con grande interesse e grande passione perché credo che sia veramente un momento fondamentale quello di approfondire le mostre in particolare anche questa mostra che riguarda siti di così grande rilievo, prestigio e che in realtà riescono ad illustrare bene anche le caratteristiche della nostra penisola attraverso il filo rosso dei Longobardi. In particolare ringrazio per questo invito perché mi permette me che sono un funzionario archeologo della soprintendenza di Caserta e Benevento di esporre i più recenti risultati delle nostre indagini archeologiche nel territorio di Benevento e tra l'altro questo consente di restituire anche un'immagine in continuo movimento e dinamicità delle scoperte che avvengono e che interessano anche il patrimonio legato alla storia dei Longobardi in Italia. Forse questo è un elemento che spesso viene trascurato, pensiamo sempre ad un patrimonio in generale che è abbastanza immobile, fossilizzato, che non è capace di incrementarsi. Invece costantemente nelle nostre città, nella penisola italiana, questa è proprio una caratteristica delle nostre città, le indagini che vengono condotte quasi quotidianamente restituiscono una serie di dati e di documenti che permettono di allargare la nostra visione sull'occupazione del nostro territorio dalle fasi più antiche fino alle più recenti e quindi in questi anni di attività nel territorio beneventano si è riuscito a recuperare anche una serie di dati di notevole interesse che permettono di incrementare il nostro bagaglio di conoscenze sulla presenza dei Longobardi nell'Italia meridionale e in particolare a Benevento. Una presenza che è molto lunga, a partire dal 570 circa fino al 1053, quindi più di 500 anni di presenza, circa 500 anni di presenza di Longobardi nell'Italia meridionale che hanno segnato profondamente il territorio e l'hanno in qualche modo trasformato. Proprio per questo c'era anche nella copertina una varietà di immagini che illustrano appunto la varietà degli invenimenti e di trasformazioni diacroniche, cioè attraverso il tempo, del paesaggio della città di Benevento. Andiamo appunto immediatamente nel luogo, nella città Benevento che è molto lontano dalla costa tirrenica, nell'entroterra, è un luogo molto ben protetto e attraversato da fiumi e protetto dalle montagne e tra l'altro noto perché proprio la chiesa di Santa Sofia con il monastero annesso, ora sede del Museo del Sagno, sono la rappresentazione tangibile della presenza dei Longobardi a tal punto che è stata scelta appunto tra i siti più rappresentativi della presenza dei Longobardi in Italia. Ma appunto come volevo sottolineare la chiesa di Santa Sofia si inserisce in un contesto urbano pluristratificato e complesso e anche la buffer zone del sito unesco è caratterizzata dalla presenza continua di elementi di grande prestigio sia architettonico che storico-artistico. Ecco la chiesa di Santa Sofia voluta da Rechi II che è appunto ancora adesso l'elemento più rappresentativo della città, uno dei monumenti più rappresentativi di una città che soltanto attraversandola con una passeggiata permette proprio di mostrarci la sua complessa stratigrafia. Possiamo ammirare dall'arco di Traiano voluto appunto dall'imperatore nel momento in cui ha inaugurato il nuovo tratto dell'Appia Traiana che seguiva la costa per arrivare a Brindisi, fino appunto alle testimonianze normale della cattedrale nella sua fase più monumentale, fino alla Rocca dei Rettori e anche altri edifici di grande prestigio antico come il teatro o anche i ponti che la attraversano che dall'antichità hanno permesso di metterla in comunicazione con gli altri prestigiosi centri della Campania Antica. Ecco questa è la pianta della città dove è possibile individuare la chiesa di Santa Sofia e poi la buffer zone e tutte quante le altre evidenze di grande prestigio che sono inserite nella città antica e nei suoi successivi allargamenti, riduzioni, ampliamenti e trasformazioni. Ecco tutti i monumenti di interesse Longobardo. Come vedete Benevento adesso è diventato un importante centro della campania interna, diciamo che è sviluppato sia all'interno dei due fiumi che l'attraversano, il calore e il sabato, essendendosi anche oltre quelli e tra l'altro cambiando anche la sua vocazione è diventata anche un importante centro in qualche modo industriale, agricolo, sempre con una vocazione fortemente legata al territorio, allo sfruttamento del territorio. E questa città è stata occupata fin dai tempi più antichi, ci sono state trovate evidenze preistoriche e poi è diventato uno dei più importanti centri sannitici. Era la città principale del sannio antica, di questa popolazione italica dell'interno, fino a quando poi è stata, attraverso le guerre sannitiche conquistata da Roma, è diventato un importante municipio romano e tra l'altro con un grandissimo sviluppo in età imperiale. Ricordo ancora l'arco di Traiano, il teatro, la sua monumentalizzazione e tra l'altro anche è notevole l'attestazione del santuario di Iside che conserva ancora una decorazione, di cui è stata recuperata la decorazione architettonica che è una delle più notevoli decorazioni di un santuario isiaco presenti nel mondo, ed è conservata al Museo del Sannio. E della presenza Longobarda ci sono tracce evidenti, come per la presenza romana, semplicemente passeggiando, attraversando la città. Forse questo è uno degli elementi che volevo sottolineare in queste presentazioni. È sempre interessante vedere come ci troviamo costantemente di fronte ad un'antichità, ad una presenza che spesso è percepita anche in modo ovvio perché veramente si incontra per strada e spesso diventiamo anche un po' assuefatti a queste presenze e le trascuriamo. In realtà la presenza medievale nella città è veramente tangibile e ancora impressionante, come testimoniano le fortificazioni, sono riferibili a due fasi della città. Il primo nucleo della città Longobarda che si è costituito era notevolmente più piccolo della città romana, si è ridotta la città romana ed è stata cinta con nuove fortificazioni per proteggerla e poi ci sono stati ampliamenti successivi a partire da Rechi II che hanno consentito di aggiungere, ingrandire la città e cingerla di nuove in mura, quindi con una serie notevoli di incrementi e poi di funzionalizzazione delle varie porzioni della città che hanno cominciato ad avere delle vere e proprie vocazioni a seconda dei settori in cui si trovavano, il centro religioso, il centro amministrativo, le porzioni antiche defunzionalizzate che sono state utilizzate come aree industriali e poi le necropoli, le aree necropolari, i conventi e tra l'altro abbiamo anche una notevolissima tradizione letteraria, le fonti sono fondamentali per ricostruire l'aspetto della città, l'importanza della città, oltre alle testimonianze monumentali. Però queste testimonianze monumentali sono oggetto di costanti approfondimenti, studi, proprio perché vanno a interessare la città moderna che quindi è sottoposta a continue ridefinizioni di trasformazioni, a modernamenti che permettono in qualche modo di cambiare il volto, ma anche poi di andare a indagare le porzioni meno note attraverso le indagini di tutela è possibile quindi riscoprire ancora porzioni della città di cui spesso non avevamo testimonianza o che spesso sono indicate nelle fonti letterarie ma di cui si è raperza memoria e traccia e quindi riescono a ricostruire in maniera dinamica la conoscenza del sito della città anche per l'età medievale. Questa è una sporzione di portarsa nell'ingrandimento della città, ancora Santa Sofia con il museo annesso nella sua fase appunto di monumentalizzazione normanna. E quello che volevo mettere in evidenza era come attraverso anche questi disegni di Labruzzi del Settecento, come la città abbia cambiato volto, quello che noi pensiamo come un patrimonio immobile ormai sigillato, invece è il frutto di una serie di trasformazioni e tra l'altro anche questi monumenti sono stati percepiti sempre in maniera differente dai visitatori e degli abitanti della città. Questo è il convento e la chiesa di Santa Sofia ancora scinti dalle mura dove erano riempiegati i reperti romani. Anche l'arco di Traiano, quello che adesso noi vediamo isolato emergere nella città e quindi punto di riferimento, diventato veramente il simbolo della città antica, era in realtà nell'immaginario di un visitatore del Settecento, di un abitante del Settecento, percepito con una funzione, era una porta, era diventata la porta della città, la porta aurea, a partire dal Medioevo, in maniera completamente diversa, non più un monumento isolato doveva essere, ma un monumento assolutamente inserito nel contesto urbano del limite della città, quindi con case che si andavano ad adagiare sulle strutture antiche e con una vivacità inaudita, appunto come si vede in questo disegno di Panini, in cui poi le antichità vengono vissute, attraversate e non percepite ad uso esclusivamente turistico come viene attualmente. Adesso anche questo si può vedere nel Ponte Leproso, che è uno dei principali accessi alla città dall'età antica, perché era il ponte che permetteva all'Appia di entrare in città, venendo da Roma. Quello che noi vediamo è una struttura con una notevole serie di fasi edilizie costruttive, che vanno dall'età antica all'età romana, appunto databili dal momento della fondazione dell'Appia, fino alla monumentalizzazione di età imperiale e fino alle trasformazioni di età longobarda e medievale. E tra l'altro anche questa, come si può vedere sempre nel disegno dell'Abruzzo, si presentava in un contesto naturalistico completamente differente, che in realtà in parte si è continuato a preservare nell'aria. E la chiesa nel Duomo, nella cattedrale di Benevento, appunto nel suo aspetto normanno, anche questo ha subito, con delle fasi di cui sono state ricoperate le fasi più antiche dell'età longobarda, si trovava in un contesto completamente differente, già nel Settecento, e che poi anche questo, appunto, questo forse è una delle cose che spesso dimentichiamo, queste vicende tribolate dei nostri monumenti, ha subito anche gli effetti dei bombardamenti del 43 sulla città, che hanno completamente demolito, abbattuto, distrutto la struttura, conservandone soltanto piccole porzioni che poi sono state ricostruite. e questa è la città moderna, quindi una città che ha una soluzione, diciamo, non ha soluzioni di continuità nella sua vita, a partire dall'età preistorica, l'età sannitica, l'età romana, l'età longobarda e poi fino all'età moderna, quindi pluristratificata, in cui emergono questi monumenti che ancora stanno ad indicare il passato, ma che spesso hanno delle reti, delle stratificazioni, dei collegamenti, che spesso si perdono nelle nuove topografie, nei nuovi assetti urbani. Come dicevo, nell'attività di tutela, a cui alla soprintendenza è dato il compito di dare pratica, attuazione, si svolge costantemente nella città di Benevento, con esiti differenti e spesso per motivi più disparati possibili, ma sempre con grandi sorprese, anche come dicevo, per incrementare le nostre conoscenze. Proprio in un'area lungo il fiume Sabato, dei lavori di adeguamento di uno spazio, di un'area per la realizzazione di un supermercato, vedete appunto si trovava proprio ai limiti del fiume, in un'area che vedete densamente costruita in età moderna a partire dagli anni 50-60 del secolo scorso, l'attività di tutela archeologica, cioè l'attività preliminare alla costruzione dell'edificio moderno, al fine di valutare il rischio archeologico e la presenza di evidenze per permettere di salvarle e di non distruggerle, ha fatto sì che venisse meglio conosciuto un'area che dalla tradizione antica, dalle fonti antiquarie, era conosciuto come un'area occupata da mulini che sfruttavano attraverso un sistema di canalizzazione la corrente del fiume Sabato per poter macinare frumento e granaglie e ottenerne farine. Questo era uno dei più importanti sistemi di produzione antica della città, già a partire dall'età romana, diffusa anche nel territorio, che poi si è conservata anche per l'età medievale. Questa era l'area ancora nell'Ottocento, in parte ancora libera, attraversate da canali artificiali per convogliare le acque e di cui rimanevano soltanto delle piccole testimonianze relative alle fasi più antiche, come delle piccole cappelle, delle chiese, come quella della Madonna Santissima della Libera, che poi sono state demolite e inserite, ricostruite in contesti completamente moderni. È diventata una cappella condominiale, l'antica cappella della Libera, perdendo qualsiasi connessione con il territorio. Ancora adesso in questa immagine si vede il canale Morro attraversato dal fiume, che adesso ha una situazione di semiabbandono della città moderna. E tutta quest'area di mulini poi è stata trasformata con grandi impianti che conservavano, mostravano ancora la vocazione. Questo era uno dei più principali mulini dell'età moderna, che adesso è trasformato in un albergo con il luogo e il mulino. Questa è l'area del supermercato e si riesce a vedere appunto come quest'area, dopo le demolizioni delle strutture preesistenti, è stata appunto riquadrata e sondata con l'intenzione di verificare appunto le preesistenze in quest'area. E le indagini archeologiche hanno permesso di individuare delle strutture relative ad un'opera di canalizzazione, appunto di contingentamento delle acque, realizzate in muratura. Ciò determinato, vedete, l'individuazione delle strutture o delle varianti progettuali. Quindi chiaramente non è stato costruito esattamente in corrispondenza delle evidenze archeologiche nessuna struttura, ma si è deciso di renderla libera e fruibile. Ma gli approfondimenti delle indagini archeologiche hanno permesso di riconoscere in queste strutture morare la descrizione di una bocca, quindi l'acqua doveva essere convogliata attraverso questo sistema di canalizzazione per poi fuoriuscire attraverso questa bocca. Gli scavi ulteriori hanno permesso di individuare anche una sorta di piano pavimentale, una pavimentazione, un fondo di questo canale realizzato con elementi architettonici antichi reimpiegati. Tra l'altro la stratificazione ha permesso di individuare come queste strutture siano state realizzate sicuramente prima dell'età moderna, prima del Cinquecento e tra l'altro la ceramica che è stata individuata negli strati di riempimento permette di riferirla ad un periodo alto medievale, quindi probabilmente ci troviamo di fronte ad una delle strutture che già a partire dall'età Longobardo come è stata delle fonti venivano utilizzate in città per poter macinare frumento ed erano strutture prestigiose e di grande importanza e sotto il controllo del potere centrale della Chiesa che determinavano così l'economia e la ricchezza anche della città. La cosa interessante è che durante l'attività di scavo sono stati recuperati ulteriori elementi architettonici e tra l'altro i resti proprio della macina che vedete in fondo che erano stati espulsi dalla bocca probabilmente durante un'esondazione del fiume e del canale che ha determinato probabilmente la distruzione del mulino e appunto lo spargimento dei frammenti nell'area circostante. Che cosa si è deciso di fare? Poi di monumentalizzare, di rendere fruibile, in qualche modo percepibile questa struttura, questo mulino. Tra l'altro è uno dei mulini che è ormai entrato nella conoscenza della città perché fino a qualche anno fa avevamo soltanto testimonianza attraverso le fonti letterarie, nessuna testimonianza archeologica e monumentale. Quindi questo è stato uno dei primi esempi che è stato monumentale, diciamo, reso fruibile all'interno del supermercato ed una delle cose più interessanti è che tutti i visitatori del supermercato possono osservarlo, vederlo e e quindi è ritornato a far parte del patrimonio comune. Tra l'altro queste strutture è interessante perché molte di queste erano proprio regolate dalla chiesa di Santa Sofia e quindi è interessante il legame con il convento e la chiesa che deve avere appunto un grande controllo su tutto quanto il territorio, anche sulle attività produttive. Ma la cosa più importante che ci permettono anche di ricondurlo ad un contesto cronologico di età alto medievale è il reimpiego di perfini strutturali, di elementi architettonici antichi e anche di elementi decorativi. Vedete in basso una stata, un togato che è rimpiegato nelle fondazioni del mulino e nella porta, diciamo all'ingresso della bocca, è stato rimpiegato un architrave con un freggio d'accanto molto interessante perché è databile all'età augustea ed è probabilmente riferibile ad un monumento funerario antico, di questi monumenti che si trovavano a lungo Lappia. Ecco questa è una particolare del togato, ci si vede un braccio con la toga che si avvolge. E questo appunto è l'architrave che trova confronto anche con esemplari pompeani, di monumenti di grande prestigio, di una, diciamo, elite beneventana che cercava di adeguarsi nell'autorappresentazione con i modelli della Roma interiale, della Roma augustea. E tra l'altro nell'area sono stati trovati anche ulteriori elementi rimpiegati in mulini moderni come questo freggio con gladiatore che è stato rinvenuto nel mulino rummo, un mulino moderno che probabilmente riutilizzava elementi architettonici più antichi, rimpiegati probabilmente in mulini d'età medievale, i quali a loro volta rimpiegavano materiali dai principali edifici antichi. Tra l'altro vedete il rapporto, nel quadrato rosso più grande vedete l'ingresso dell'appia in città attraverso Ponte Leproso e questa è l'area del mulino dove sono rimpiegati i reperti. Probabilmente anche attraverso il fiume i monumenti antichi venivano sistematicamente smontati ed utilizzati come materiali da costruzione, come vedremo più avanti anche come materiale per produrre calce per la nuova città che si stava creando e si stava realizzando in tutta quanta la sua monumentalità. Infatti proprio in corrispondenza di Ponte Leproso scavi che sono stati realizzati per permettere di mettere in opera la condotta idrica hanno consentito di portare alla luce un mausoleo romano e tra l'altro una calcara che si è inventata anche essa probabilmente in età Longobardo, vedete questo è il Ponte Leproso, questa è l'area di scavo, diciamo quest'area continuava ad essere il punto di ingresso in città ma anche era il punto in cui era più facilmente possibile recuperare materiale antico dei monumenti funerari, smontarli, tra l'altro questa possibilità e queste trasformazioni dei monumenti, dello stesso ponte e dei mulini che sfruttavano la corrente del Sabo è attestato dal diploma di Dacomario che ancora intorno al 1000 sfruttava le acque e aveva delle concessioni per poter riadattare i monumenti come Torre della Catena, la Via Appia e trasformarla. Ecco vedete che ci sono ancora tracce di mulini nell'età moderna come attesta questo disegno di Meo Martini, un importante archeologo beneventano che a lungo si è occupato di tutte le antichità della città mettendo in evidenza anche le sue fasi più recenti, quelle Longobarde e quelle medievali. Si recupera anche in corrispondenza dei ponte Leporoso una bocca molto simile a quella che abbiamo visto attestata in corrispondenza del supermercato via Napoli, tra via Napoli e via dei mulini a Benevento. La cosa interessante è che quest'area quindi doveva essere occupata, l'area di ponte Leporoso attraversata dall'Appia doveva essere occupata da mulini, la strada continuava ad essere utilizzata, i mausolei romani venivano smontati e c'erano dei sistemi di produzione, vedete c'è la condotta fognare che è stata dismessa ed è stata sostituita e si riesce a riconoscere l'ingresso di una calcara. Il luogo appunto dove venivano bruciati i frammenti di marmo antico per produrne calce. Quindi anche questa è un'interessante attestazione della vitalità della città, della continua trasformazioni e anche sull'uso che si faceva della città antica defunzionalizzata che in parte veniva distrutta, utilizzata come cava di materiale e in parte veniva ancora, diciamo, faceva mostra di sé come per esempio nel caso dell'arco di Traiano o del teatro che venivano in parte anche abitati e utilizzati come necropoli come vedremo successivamente. Ecco ancora una pianta, quello quadrato, quella pianta quadrangolare e sul mausoleo si appoggia la calcara alto medievale. Poi a poca distanza, sempre da Ponte Liproso, sempre durante i lavori di realizzazione della condotta fognaria, è stato possibile portare alla luce una notevole testimonianza della vita della città in età alto medievale, diciamo ancora intorno tra il IX secolo e il 1000. Infatti gli scavi hanno permesso di mettere alla luce una necropoli, vedete queste sono le aree dei saggi, un nucleo di tombe riferibili all'ultima fase Longobarda della città, non ancora testate durante gli scavi urbani. Sono delle tombe allogette di grande prestigio, esemplari simili sono sempre legati a personaggi di grande spicco e importanza all'interno dei contesti urbani. Diciamo tombe simili sono state trovate nella chiesa di San Salvatore, a Benevento, a Pazzo Cardinal Pacca, ma di così gran bellezza e raffinatezza non c'era ancora attestazione. Anche dal punto di vista tipologico ci sono delle varianti che permettono di considerare degli unica questi rimedimenti. La cosa interessante è che queste tombe che vedete presentano l'alloggiamento del capo del defunto e questa chiusura a punta lo vedete anche ritratto nella fotografia a sinistra c'è il defunto ancora adagiato, sono tagliati in una struttura muraria di età romana, in opus reticulatum, quindi c'è un sapiente riutilizzo delle strutture antiche dotate appunto di una nuova funzione. Ecco questa è una visione dall'alto diciamo che l'area necropolare è stata in parte distrutta da precedenti interventi che non erano stati sottoposi all'attività di tutela perché non esistevano ancora le leggi che determinavano appunto l'intervento della soprintendenza e in parte quindi sono state distrutte e in parte si conservano ancora. Questo è il muro reticolato all'interno del quale sono tagliate le tombe che trova confronti con il vicino anfiteatro che si trova a poca distanza. Ecco questa è la struttura muraria, probabilmente questa grande struttura doveva essere funzionale, vedete il rosso e l'ingresso dell'appia in città, in corrispondenza del cursore vedete l'area in cui sono state trovate le tombe all'oggetto e vedete sono in stretta connessione con l'anfiteatro, quindi erano delle strutture che permettevano di descrivere l'ingresso dell'appia in città o erano funzionali al contingentamento degli spettatori all'interno dell'anfiteatro o ancora poteva essere anche una struttura legata al trasferimento dell'acqua, un acquedotto che lungo l'appia poteva attraversare il fiume ed entrare quindi in città. Quindi strutture monumentali che in età Longobarda vengono già in questo caso abbiamo visto riadattate in vari modi, abbiamo visto che nel mulino erano utilizzate come materiale di reimpiego, poi ci sono ulteriori tipologie di riutilizzo dell'antico attraverso la distruzione e la riduzione in calce dei monumenti antichi oppure l'utilizzo come ancora strutture che, perse la loro funzione originale, vengono riadattate per trasformarle in spazi di sepoltura o nuove abitazioni come è testato per esempio nel caso dell'anfiteatro e del teatro. Mi piaceva anche illustrare come le attività di tutela permettono anche una maggiore conoscenza delle fasi Longobarda nel territorio gravitante attorno alla città di Benevento. Scavi che sono stati condotti durante le attività di tutela legate alla realizzazione di parchi eolici che interessano tutta l'entroterra beneventano, anche nel caso di questo centro di notevoli interesse, Ponte Landolfo, che si trova proprio in corrispondenza dei principali assi viari che permettevano di mettere in comunicazione Sepino con Benevento ma anche tutta l'area del Casertano con Benevento, è proprio un incrocio fondamentale, molto vivo, ha permesso di restituire testimonianze di grande interesse sia per comprendere le fasi romane e di occupazione del territorio, sia la trasformazione che è avvenuta con l'età Longobarda dei principali centri romani e il riutilizzo e il riempiego delle evidenze precedenti. Diciamo che per Benevento le vie di comunicazione sono state sempre fondamentali nella sua storia, e abbiamo prova dal fatto che Lappia la attraversava e dal fatto che sia Lappia più antica, quella voluta da Lappia Claudio, sia la trasformazione, la variante voluta da Traiano che permetteva di ridurre almeno di due giorni il viaggio da Roma a Brindisi. Questo consentiva anche il fatto che Benevento diventava nel cuore della campagna antica, della penisola, nel cuore degli Appennini, un centro di collegamento tra nord e sud, ma anche principalmente tra occidente ed oriente, perché come avete ben capito attraverso Benevento si poteva raggiungere Brindisi e da Brindisi ci si poteva imbarcare per raggiungere la Grecia, ma in generale per raggiungere tutto quanto l'Oriente. Non a caso i principali imperatori abbiano fatto di Benevento un luogo dove esporre le loro imprese, proprio nel momento in cui si dirigevano verso le campagne militari o altre imprese notevoli per l'impero, per l'accrescimento dell'impero. E questa vocazione è rimasta anche per tutta l'età medievale. I rinvenimenti che sono stati eseguiti, avuti, sono stati portati alla luce a Ponte Landolfo testimoniano proprio queste trasformazioni. Infatti durante la realizzazione del cavidotto è stato possibile portare alla luce una serie di sepolture realizzate con grandi blocchi di riempiego, di calcare, all'interno di strutture più antiche d'età romana, chiaramente riconoscibili e databili, poiché sono stati realizzati in Opus Reticulatum, che in parte è stato riutilizzato, e tra l'altro gli stessi vani, diciamo che le strutture romane in Opus Reticulatum descrivevano probabilmente una villa rustica che si trovava nel territorio dell'attuale Ponte Landolfo, villa che però si è dimostrata di grande prestigio, perché non era soltanto una villa destinata, una sorta di fattoria destinata allo sfruttamento del territorio, ma i rinvenimenti di marmi colorati antichi, cipollino, porfido, giallo antico, fior di pesco, marmo africano, testimoniano che la villa in realtà aveva una parte pubblica molto prestigiosa e di grande rilievo dal momento che era decorata con marmi colorati, e tra l'altro anche le individuazioni di mosaici e di tessere di mosaico, variati colori, tra cui abbiamo recuperato molte tessere in cobalto, permettono veramente di definire questa residenza come di grande prestigio e non è semplicemente un luogo per lo sfruttamento agricolo del territorio. Quindi trovandosi in un crocevia importante, dobbiamo immaginare che è un centro veramente di passaggio, ma che era abitato da élite beneventane che avevano necessità di dominare e controllare il territorio. Ecco le strutture di età romana, con le evidenze di età longobarda, testimoniata anche dai ricchi corredi, che permettono di capire come questo territorio è stato completamente sfruttato, defunzionalizzato, chiaramente sono ancora da definire i motivi per cui queste strutture vengono riaccupate attraverso l'uso di necropoli e dove si trovavano i centri occupati in età medievale. Ecco, queste sono una piccola testimonianza dei reperti che sono stati rinvenuti a corredo delle tombe con un contenitore ceramico e un tettine in osso che attualmente è in restauro. Ecco la serie di tombe. Un'altra cosa interessante per capire lo sviluppo della città in età longobarda è il rinvenimento. In realtà è una statua che è stata sempre visibile a poca distanza dal centro di Benevento, però in aperta campagna, riconosciuta come una sorta di santo chiamato Santo Nigrito. Questa statua è rimasta nel corso dei millenni sempre in vista e abbastanza rispettata dai contadini che hanno fatto una sorta di oggetto di reperto scaramantico, intoccabile. Ancora adesso si trova depositata presso i campi, ecco nel punto rosso in basso a destra potete riconoscere il luogo dove si trova la statua. Un approfondimento conoscitivo di ricerca ha permesso di mettere in azione con un importante centro che è stato riconosciuto probabilmente con il sito di un uceriola testimoniato dalle fonti antiche della tavola anche poi tingeriana che era un centro lungo l'Appia nell'immediata uscita dell'Appia in città dell'Appia che si dirigeva verso il clano. Ecco la tomba in mezzo alle campagne e un approfondimento, tra l'altro la tomba era stata descritta anche da Alberico Meomartini come aveva l'archeologo già citato precedentemente la quale la vedeva in mezzo ai campi che la riconosceva come una statua di Giove soltanto che le statue di Giove solitamente presentano, in realtà in tutti i casi presentano il torso nudo. In questo caso vedete che la struttura presenta un imatio e un mantello quindi completamente vestito, una tunica e un mantello che si avvolge lungo le braccia. Diciamo un confronto puntuale, vedete qui c'è una statua di Giove che presenta il torso nudo permette in realtà di ritenerla la rappresentazione di Serapide che vedete ha questo complesso panneggio che si avvolge sulle braccia ed è completamente abbigliato e tra l'altro essendo una divinità anziana presenta anche questo seno molto appesantito che quindi non è un seno femminile ma è un seno di un uomo anziano come vedete anche nella rappresentazione della statua Beneventana. La cosa interessante è che indagini archeologiche condotte in corrispondenza della statua in una località che dalle fonti è sempre nota come Santa Maria in voto ha permesso di riconoscere le preesistenze, ciò che si trova attorno alla statua. Nel sito di Fuluceriola sono state individuate dall'Università di Salerno importanti evidenze archeologiche probabilmente riferibili appunto all'attraversamento dell'Appia in quel tratto di campagna ma in corrispondenza della statua che si trova veramente a poche centinaia di metri dal sito di Fuluceriola è stata individuata dalle fonti antiquarie la presenza di numerosi materiali antichi reimpiegati e viene sempre descritta la statua che si trovava in corrispondenza di questo luogo noto come Santa Maria in voto che è un luogo fondamentale per la storia longobarda della città perché era il luogo in cui i longobardi continuavano i loro culti pagani e che furono messi a tacere ed eliminati per sempre grazie all'intervento del vescovo Barbato San Barbato a Benevento e quindi però questa che era una sorta di tradizione leggendaria mitica costruita attraverso il tempo sembra di trovare una corrispondenza archeologica soprattutto nel tentativo probabilmente anche successivo di dare testimonianza delle antiche leggende logombarde che si andavano a stratificare nel territorio beneventano gli scavi vedete in alto si ritrova la statua gli scavi condotti dalla soprintendenza intorno a metà degli anni 2000 hanno permesso di riconoscere come la statua si trova in immediati paraggi di una chiesa che è riferibile all'età alto medievale come testimonia la piccola necropoli gli elementi costruttivi della chiesa e l'insieme dei materiali riempiegati di epigrafe e di elementi architettonici di età romana trasferiti qui per edificare questo luogo di culto ubicato esattamente dove si trovava un luogo di culto sannitico quindi veramente un palinzesto interessantissimo dall'età riferibile al quarto secolo avanti Cristo fino all'età medievale queste sono appunto le testimonianze di quarto secolo e questa è l'area del copato dalla chiesa e questa è la tradizione che vedeva proprio in corrispondenza della chiesa di Santa Maria a volto in voto la presenza di questi antichi culti testimonianti dagli fonti in particolare dalla vita di San Barbato al tempo in cui Grimoaldo teneva le redini del regno Longobardo e suo figlio Romualdo governava i sanniti un insigne sacerdote di nome Barbato come si racconta per volontà del Redentore fiorì a Benevento famoso per le sue azioni e corrusco di gloria in quei giorni sebbene i Longobardi fossero stati lavati dall'onda del Sacro Battesimo tuttavia mantenendo essi i resti antichi del Paganesimo dato che avevano una mente bestiale piegavano il collo che dibitamente avrebbero dovuto piegare davanti al loro creatore davanti al suo mulacro di una besta chiamata Vipera inoltre lontano dalle mura di Benevento nei giorni solenni adornavano un albero sacco al quale sospondevano una pelle di animale tutti quelli che erano presenti voltavano le spalle all'albero e cavalcavano il più velocemente possibile spronando a sangue i cavalli per superarsi l'uno con l'altro poi tornati indietro nel loro tragitto strappavano la pelle con le mani e una volta fatta la pezzi ne prendevano superstiziosamente un piccolo pezzo da mangiare e poiché li scioglievano i loro stolti voti da questo fatto dettano a quel luogo il nome di voto così come è chiamato ancora oggi quindi le testimonianze delle legate letterarie hanno trovato diciamo un'interessante corrispettiva nelle testimonianze archeologiche tra l'altro in maniera molto più complessa perché questa tradizione probabilmente ha seguito ad avere una grande tradizione e popolarità a Benevento a tal punto che il centro sanita del santuario sanita si è ulteriormente stratificato nel corso del tempo ed è diventato anche il centro catalizzatore degli elementi di questo paganesimo che era difunzionalizzato e riutilizzato come materiale per la costruzione della nuova chiesa che si trovava nel territorio di Benevento un'ultima per concludere notazione è il riferimento dei piccoli scavi che si stanno conducendo attualmente nella città di Benevento veramente una scoperta di qualche giorno fa che mi piaceva in qualche modo anticipare e presentare anche se in maniera veramente molto superficiale in questa occasione perché a poche centinaia di metri dalla chiesa di Santa Sofia in piazza Piano di Corte che già nel nome testimonia tutta l'importanza di questo luogo perché doveva essere la sede del palazzo Molongobardo poi monumentalizzato da Rechi II durante i lavori di riqualificazione della piazza di ripavimentazione le indagini archeologiche hanno permesso di mettere in evidenza importanti testimonianze delle fasi più antiche di quest'area che si è poi diciamo della piazza che si è poi diciamo cristallizzata nel Settecento e che dalle fonti letterarie era appunto di notevole interesse perché sede di rivenimenti importanti ma anche come già dicevo sede del potere del ducato Longobardo e appunto l'iscaver che oggi ci hanno permesso di mettere in evidenza un'igrande struttura muraria fondata con elementi antichi di grande prestigio e anch'essi provenienti probabilmente dai monumenti più importanti della città come teatro e anfiteatro attualmente il muro è in corso di scavo come anche tutta quanta l'area della piazza e mi piaceva presentarlo perché significa che questa presenza Longobarda in città e la conoscenza della presenza Longobarda in città è in continuo divenire in continuo approfondimento e questo credo che sia un elemento di grande arricchimento per l'Italia dei Longobardi per la città di Benevento per le conoscenze e anche per tutti coloro che vogliono avvicinarsi al patrimonio dell'UNESCO ma anche al sviluppo della città e della complessità delle nostre città delle città italiane in particolare della città di Benevento grazie mille Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.